In arrivo dalla Regione Campania, ordinanze per il mese di febbraio, si irrigidisce così la zona gialla. Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante i giorni segnati in rosso sul calendario a febbraio, ha previsto restrizioni anti-movida per evitare assembramenti in strade e nei locali, nei giorni di San Valentino e Carnevale, festività che in tempi diversi sono state vissute con spensieratezza. Al vaio della Regione Campania e dell'unità di crisi, in questi giorni, anche la curva dei contagi. Per la Regione Campania l'obiettivo è arrivare al mese di marzo con una situazione epidemiologica sotto controllo, onde evitare di far andare sotto stress gli ospedali e rendere vano il lavoro svolto per il piano vaccinale.